Le ultime due corde sono lo sfasamento di un semitone. Ah, ok. E qui c'è una terza. E quella è una fregatura. No, è bellissimo come scala. C'è, è rock'n'roll questo. Cioè, non è come colpiamo. Rock'n'roll. Questa non è la musica dei cittadini. Questa è bellissima. Rock'n'roll. Questa è la musica dei cittadini. Come è il piano? Spooky, spooky. Mi sono detto il dito, Piero, che lo sai. Mi sono detto il dito a fare... Mi sono detto già metti a paladuolo. Ma tu te sei stile. Maia, Molina. Adesso si fanno le pannocche. Ma cosa ci fai con quei guanti? Poi non ricordo. Eba, sei brava però. Perché non hai suonato mai? Ce l'abbiamo anche a casa la chitarra. Poi a casa suona con quella domani. Eh, sì. I musicisti bisogna lasciarli stare. Devono suonare... È vero, questo è vero. Esatto. Perché se glielo chiedi hai già... È vero. È vero. È le fette scosse. Se glielo chiedi dicono che hanno la tastiera corta. È la brutta, la... Ma io non ho che quello là. La conglia del musicista... Qua, questo. Sono quelli che ti chiedono... No, in... Andrei, la mano davanti alla scossa. Quindi io e... Questo.